Forza, vantemi sotto, siamo nel punto giusto. Cosa? Dovete colpirle appena entrano. Fra mezz'ora sarete già roba vecchia, Benny. E se adassi a parlare con quella mora laggiù? È un po' sprecato. Perché? È una stacca novista, se ne andrà fra due minuti. Come fai a saperlo? Guarda le mani. Sindrome del tunnel carpale. E poi anche se restasse non te la consiglio. Se ti fa una sega quella ti serve un kit dei pompieri per disincagliarlo. Ecco che sei la fila. Wow, sei un mago. Oh, ehi, oh, oh, ehi, oh. La biondata laggiù, quella. Ah, lascia stare. È un'illusione ottica, circondata da cessa amiche. Cessa amiche? Sì, quando una da sei si circonda di amiche meno attraenti, ti sembra una da dieci, bello. Ma che cosa stai dicendo? Quella è da dieci. Oh, non farmi ridere, Freddy. Forza, prova così. Ci sei? Blocca tutto il resto. Dimmi cosa vedi. Oddio mio. Eh? Bene, guardate adesso, Freddy. Gnocca. Giusto. Cessi. Pazzesco. Gnocca. Cessi. Porca puttana. È fantastico. C'è un genio la beautiful mind. Dove vai, fratello? Quella lì, indossa un perizome. E tu come lo sei? Ho sbirciato sotto la gonda. Cool. Va in culo, va bene, vado. Dalle arricchiamo. Io torno in albergo con i taxi. Oh. Freddy. Freddy. Dimmi. È stato un onore vederti crescere. Oh, grazie. Veramente? Pensi di avere l'appendicite? Mi brontola lo stomaco. Ho dei dolori lancinanti. Ok, se vuoi ti porto in ospedale. No, forse mi passa. Potrebbe essere colpa di questo schifo di cerotto. Ho appena smesso di fumare. Penso di essere allergica perché mi fosse a prevenire una nausea assurda. Mettici anche che ho bevuto al locale. Allora devi vomitare. No, non ci riesco. Aspetta. Tieni, tieni, tieni. Tieni questo, però non viene nienza. No, sono una di quelle che non vomita mai. Magari potessi, dopo starei meglio. Ma sai, una casa mi è passato tutto. Merito dello starnuto. La porto il più lontano possibile. Grazie. Ma mi hai lasciato il tuo numero!